Buongiorno. Come sa chi mi segue, uno dei bersagli delle mie critiche sono i media, giornali, televisioni, eccetera. E questa per la buona ragione che sembrano assolutamente ansiosi di proporre il peggio, il banale, di seguire il mainstream, anche se tutto sommato questo poi non si traduce nell'obiettivo principale, cioè in vendite. Infatti in Italia pare si lega molto poco, i giornali hanno modeste tirature, tanto che uno dei giornali settimanali che un tempo andava per la Maggiore, l'Espresso. Oggi viene quasi regalato insieme a Repubblica, facendo parte del gruppo di De Benedetti. Viene quasi regalato. Questo chiaramente dimostra che non c'è questo grande interesse per il quotidiano, che io leggevo da ragazzo, che ho sempre letto, e devo dire sinceramente che con sempre minore entusiasmo. Era per così dire uno dei riferimenti dei radical chic, sempre meno radical e ormai per niente chic. Ma questa è la mia opinione ovviamente per quello che vale. Ma perché dico questo? Perché quando leggo il giornale, l'ultimo numero, l'ultimo numero, questo del titolo Apocalisse del 21 agosto, eccolo qua, ho letto delle cose interessanti sull'economia. Per quanto riguarda l'arte invece, c'è una certa... l'arte è affidata ormai quasi esclusivamente a questa tizia Alessandra Mammi, la quale per esempio nell'ultimo, in questo numero che ho detto del 21 agosto, in questa rubrica Art Box, presenta due mostre. Due mostre di due artiste, donne ovviamente. Ora, sicuramente è il meglio che si potesse presentare. Io mi fido delle decisioni della Mammi. Ho qualche perplessità, effettivamente. Ho qualche perplessità. Soprattutto per la seconda presentazione che si chiama Ted a Ted, in cui viene presentata Kissing Smith e Betty Woodbank. Cosa dice la Mammi? Lo leggo perché è interessante, almeno si sa di cosa si parla. Due artiste, due storie. Kiki Smith, raffinatissima artista che fonde l'immaginario nord-europeo con le sottigliezze del fantastico anglosaggione. Per parlarsi di nascita e rinascita autobiografica e politica, natura e favola. Ora, Kiki Smith è nota, tra l'altro, perché un artista non è che si può contraddire più di tanto. Quindi, se fa una certa cosa, il solco è quello. Quindi, Kiki Smith è nota per aver presentato delle sculture assolutamente rotte, rotte nel senso di fatte male, così improvvisate, di donne a cavalcioni defecanti. Questa sarebbe la raffinatissima artista nordica, secondo la Mammi. L'altro a voi giudicare. Ovviamente, quello che dico, potete verificarlo, che non è una mia, in questo caso non è una mia opinione. Chiunque si voglia fare una ricerca su Kiki Smith, verificherà questa cosa. E secondo Mammi è una raffinatissima artista. La seconda artista è la madre della straordinaria e compianta Francesca. Dopo aver lavorato in silenzio per anni, è ora al centro di una meritata riscoperta. qui insieme per la prima volta. Ora, Betty Wuma è la madre di Francesca Wuma, una ragazza che purtroppo, tristemente, si è suicidata a 22 anni. Allora, andiamo a vedere le opere di questi artisti. Andiamo a vedere le opere, soprattutto di Francesca Wuma, la compianta Francesca Wuma. Era un artista, chiaramente con dei problemi, perché se ha 22 anni una persona si suicida, chiaramente ha dei problemi. Quindi sul piano umano ha tutta la comprensione possibile. Sul piano artistico, cosa faceva? Il corpo, il corpo, l'eterno ritornello, l'eterno ritorno al corpo, esibizione del corpo, presentazione del corpo, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, queste sono due artiste presentate. La madre poi fa, chiunque può andare e fare la ricerca su Betty Wuma e vedrà quello che fa. Ecco, io non esprimo giudizi in questo caso, trattandosi o bene o male di disegnini colorati, eccetera. Alcuni possono piacere. E poi per quello che si vede in giro, questo no. Ecco, però, ecco, queste sono le cose che un giornale, un giornale ex importante, presenta come artiste. Allora, la mia domanda è questa. È possibile, è accettabile orientare l'arte sempre più pesantemente, dando risalto al genere? È possibile questo? È giusto? È produttivo per l'arte? Ecco, questa è una domanda che io pongo e lascio a chi mi ascolta la risposta. Poi c'è un'altra questione che vorrei trattare. Cioè, sempre la mammi, visto che è lei che si occupa di mostre, artista decidi tu. Quindi lancia questa cosa. Basta con critici e studiosi. Oggi musei e biennali si affidano sempre più spesso a scultori e videomaker. Jan Komsky e Vettoli. Nomi e motivi di una nouvelle vogue. Di una nouvelle vogue. Ecco, questi sono... Quanto c'è di vero in questo? Poco. Poco nulla. Perché si tratta di vedere quali sono le mostre che vengono presentate da questi signori. Non si può ogni volta che succede un avvenimento, segnalarlo come un cambiamento epocale. A mio avviso non è corretto. Ciò premesso, il problema è che ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere. Perché delle due luna o l'artista che organizza biennali, mostre, fiere e tutto quanto presenta soltanto gli artisti che sono sulla sua stessa linea, oppure in qualche modo entra in contraddizione con se stessa. E in ogni caso fa un altro mestiere. Fa un'altra cosa. Quale senso ha? Qual è la ragione di tutto questo? Che l'artista si presti è perfettamente comprensibile. Si presta perché in questo modo tiene visibilità, che è tutto quello che oggi interessa. Cioè l'arte è mercato, è mondanità e null'altro. E quindi è chiaro che anche sotto questa, in quest'ottica, si capisce le banalità presentate dalla Mammy sull'Espresso. Io personalmente devo dire che anch'io sono stato presentato, sono state presentate mie mostre sull'Espresso negli anni 70, 80. Allora l'Espresso, cioè adesso ovviamente questa cosa mi attirerà le critiche perché è facile dire quando presentava le tue mostre valeva, adesso che le presenta altre no. Ecco, questa è una facile argomentazione che però sarebbe sbagliata. Non presentavo solo le mie mostre. La qualità dei critici, Barilli per esempio, non può essere certo messo sullo stesso piano della Mammy. Barilli teneva la rubrica delle mostre sull'Espresso, prima di lui Marini ed altri. Quindi il problema qual è? Il problema è che la decadenza generale di questa nostra società in declino si manifesta anche nell'arte ed è agevolata, come io non mi stanco di ripetere, dagli stessi giornali, i quali vanno a cercare le cose così, che non hanno precise e radicate motivazioni che Smith può anche essere famosa, per carità. Nessuno nega, cioè la fama è una cosa, la qualità delle opere è un'altra cosa. Quindi presentare come opere donne defecanti con sculture assolutamente rozze, ecco, non mi sembra che denoti una grande raffinatezza e qualità artistica, come invece sostiene la Mammy. Allora perché lo fa? Perché che lo fa? Carenza di cultura, di sensibilità o semplicemente prevalenza di, come dire, di agevolazione di genere? Io non lo so e quindi non esprimo pareri, lascio a voi eventualmente considerare riflettere su questo. Quello che è certo che in questo modo non si arresta questo decadimento generale della cultura e dell'arte in particolare. Lo si facilita e lo si alimenta. Io, questo è l'argomento, come voi sapete, sul quale ritorno spesso. In questo caso ho voluto fare un riferimento specifico perché è una conferma di ciò che io vado ripetendo ormai da anni. Non è che i miei interventi possano modificare la situazione in generale. Però quantomeno, come ho detto, costituiscono testimonianza, siccome questi film resteranno a futura memoria, e anche stimolano la riflessione perché ciascuno di voi possa pensare a queste cose e poi ovviamente trarre le proprie conclusioni. Buongiorno.